Il mercato medievale di Filetto raggiunge il traguardo della trentesima edizione senza perdere fascino e magia. Un vero e proprio viaggio nel tempo ricco di spunti educativi e curiosità sul passato grazie a rievocazioni storiche che attendono il visitatore ogni sera a partire dalle 18 dall'11 al 15 agosto. Si entra dall'arco delle antiche mura e si vive come in un viaggio nel tempo a ritroso il borgo medievale come trasportato alla fine del 300. Un'occasione per trascorrere una serata in modo insolito e affascinante tra dame, cavalieri, giullari e saltimbanchi in un'ambientazione ricostruita nei minimi dettagli con particolare attenzione all'aspetto storiografico e didattico tramite la ricostruzione dei ruoli chiave di una piccola comunità. Una ricerca storica sul passato con attenzione e dedizione che si manifesta nella particolare cena medievale che viene svolta all'interno dell'antico chiostro del convento del borgo. Ai commensali vengono proposte nel menù ricette frutto di studi sulla gastronomia antica con accurata ricerca anche verso i sapori e le materie prime visto che nel medioevo tanti ingredienti non erano in uso derivando dalla scoperta del continente americano e presenti sulle tavole europee dopo il 1492. Per un cuoco dei giorni nostri non è facile cimentarsi con la cucina del 1300. Prima della scoperta delle Americhe in Europa erano del tutto sconosciuti prodotti oggi di uso comune quali peperoni e peperoncini, patate, pomodori, tacchino, mais oltre a cacao e vaniglia. A questi vanno aggiunti prodotti che pur non essendo di origine americana all'epoca o non erano conosciuti o erano rari e di difficile utilizzo. Il primo di questi è lo zucchero. Gli ospiti si dovranno pertanto abituare a gussi di un tempo che distinguevano meno tra dolce e salato e utilizzavano molto le spezie anche a fini conservativi dei cibi. Un'occasione unica di divertimento per famiglie e soprattutto bambini. Ogni angolo svelerà un ruolo ed un mestiere e non mancheranno personaggi dell'immaginario fantastico quale il Gobbo, il Mago e i giocolieri. Spettacoli di piazza, giochi, animazione, coreografie e rievocazioni storiche con un calendario ogni sera diverso proposto e organizzato dalla Proloco Locale con l'aiuto di tanti volontari impegnati a rendere assolutamente emozionante l'ambientazione per questa festa che raggiunge qualità e successo. Nelle viuzze e nelle piazze dell'antico borgo inoltre si potranno acquistare prodotti artigianali e gustare i cibi della tradizione lunigianese per una festa di rivisitazione storica a cui non manca la voglia di soddisfare il palato.